Storia della razza. Diverse varietà di bull terrier e terrier dalle isole britanniche iniziarono ad entrare in America già nel 1850. Alcuni cani sono diventati molto famosi per le loro abilità di combattimento tra cani. Già sviluppati come cani americani, questi cani divennero una nuova razza che fu riconosciuta dall'United Kennel Club nel febbraio 1898 come American Pit Bull Terrier. Il 10 giugno 1936 circa 50 cani Pit Bull Terrier registrati furono accettati per la registrazione nel libro genealogico dell'American Kennel Club con un nuovo nome di razza, e un nuovo bersaglio, appartenenti al gruppo dei terrier. Il nome Staforcire Terrier è stato scelto perché gli antenati della razza provenivano dallo Staforcire, in Inghilterra. Il nome della razza è stato cambiato il 1 gennaio 1969 in American Staforcire Terrier per distinguerlo dal British Staforcire Bull Terrier, una razza separata. Per la registrazione della prole, solo i cani con registrazione al Club AKC potevano riprodursi. Questo fatto, insieme ad una selezione della razza basata interamente sulla conformazione nel corso dei decenni, ha trasformato l'American Staforcire Terrier in una razza diversa dall'American Pit Bull Terrier. La popolarità della razza iniziò a diminuire negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2018, l'American Kennell Club ha classificato l'American Staforcire Terrier come l'85esima razza di razza più popolare negli Stati Uniti. L'American Staforcire Terrier, o Amstaff, è una razza di cani da combattimento nata dall'incrocio di Bull Terrier e Pit Bull Terrier. Attualmente sono utilizzati per la protezione dei beni, e come guardie del corpo personali. Si distinguono per la loro energia, affetto per il proprietario. Trattano bene i bambini. Tuttavia, sono testardi e testardi. A causa della loro intrinseca aggressività, sono pronti a essere coinvolti in una rissa in qualsiasi momento. Punti salienti e fatti interessanti. L'American Staforcire Terrier di nome Stubbi ricevette il grado di sergente, e fu il cane più titolato della Prima Guerra Mondiale. Quando la razza si trasferì in America, i nomi Pit Dog e Pit Bull Terrier rimasero. Tuttavia, gli allevatori americani volevano un animale più pesante della razza britannica, da qui il nome American Staforcire Terrier. Le radici dell'American Staforcire Terrier possono essere fatte risalire ai primi Mastiff fino ai primi Bulldog inglesi, che venivano usati per sanguinare i tori. L'American Staforcire Terrier è stato adottato nel 1936 per la registrazione nel libro genealogico dell'American Kennell Club come Staforcire Terrier. Gli American Staforcire Terrier sono guardie intelligenti ed eccellenti. Gli American Staforcire Terrier amano masticare e scavare nel terreno. Aspetto? L'American Staforcire Terrier dovrebbe dare l'impressione di un cane di grossa taglia, per la sua taglia, forza, ben affiatato, muscoloso, ma allo stesso tempo elegante, agile e molto reattivo all'ambiente. L'American Staforcire Terrier dovrebbe essere tozzo di profilo, non con le gambe lunghe o levriero. Il suo coraggio è leggendario. Colore. È consentito qualsiasi colore. Sono accettabili colori solidi, colorati e immaculati. Il colore bianco, che supera l'80% della superficie corporea, così come il nero focato o il fegato sono indesiderabili. Altezza e peso. Necessariamente proporzionale. L'altezza algarrese è di circa 46 al 48 cm per i maschi e 43 al 46 per le femmine. Tratti distintivi del carattere. I cani di questa razza sono attivi e coraggiosi, hanno uno scopo e una sorta di intelligenza. Il loro carattere combina una serie di qualità opposte. Affetto e forza, intransigenza e compiacenza, perseveranza e sensibilità. È improbabile che questa razza sia adatta a una persona, che ha un cane per la prima volta. Il personale è senza paura, ma lotta per la propria sicurezza. Se Amstaff decide, che sono ingiusti nei suoi confronti, mostrerà risentimento con tutto il suo aspetto. Può vivere in un appartamento di città, ricevendo abbastanza stress mentale e fisico mentre si cammina. Assolutamente non adatto per esterni, voliere, catene. Amstaff ha una bassa soglia di irritabilità. La socializzazione precoce e la genitorialità coerente sono essenziali. L'aggressività può manifestarsi a seguito di una reazione difensiva-difensiva, in una situazione in cui l'animale avverte un pericolo. Quando si avvia un American Staffordshire Terrier, i proprietari dovrebbero essere preparati non solo ad allenarsi, ma anche a prestare particolare attenzione all'attività fisica. Manutenzione e cura. L'American Staffordshire Terrier prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Scopri quali alimenti sono sicuri per i cani e quali no. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Governare il pelo corto e ruvido di Amstaff è sorprendentemente facile. Di solito è sufficiente una breve spazzolatura ogni settimana con una spazzola a setole morbide per rimuovere lo sporco. Inoltre, un buon pettine distribuisce il sebo su tutto il pelo per mantenerlo sano. Se l'Amstaff entra in qualcosa di particolarmente sporco, probabilmente avrà bisogno di un bagno. Altrimenti, il bagno può aspettare fino a quando non sviluppa un odore di cane. Come per tutte le razze, le unghie di un cane dovrebbero essere tagliate regolarmente, poiché le unghie troppo lunghe possono essere dolorose e causare problemi al cane a camminare e correre. Un cane atletico ed energico come l'American Staffordshire Terrier richiede molto esercizio. Tuttavia, lasciare il cane in cortile tutto il giorno non è l'approccio giusto. Sì, può correre, ma l'American Staffordshire Terrier è un cane centrato sulle persone, che fa bene quando diventa parte della famiglia. Sessioni di lunghi giochi con il proprietario sviluppano la sua salute fisica e psicologica. Inoltre, molti della razza amano gli sporcanini come l'obbedienza, l'agilità e le immersioni. Alcuni American Staffordshire Terrier sono persino addestrati nelle operazioni di ricerca e soccorso ed eccellono in questo. Le prime lezioni di socializzazione e addestramento dei cuccioli sono raccomandate per tutte le razze, ma data la forte volontà, la forza fisica e l'entusiasmo dell'Amstaff, sono essenziali. L'intelligenza della razza e il desiderio di compiacere rendono l'addestramento facile e divertente. Va notato che l'aggressività nei cani può svilupparsi anche in rappresentanti ben socializzati della razza, in nessun caso l'American Staffordshire Terrier deve essere lasciato solo con altri cani. Salute! L'Amstaff è una razza robusta e sana e un allevatore responsabile esaminerà il patrimonio riproduttivo per condizioni come displasia dell'anca, malattie cardiache e allergie. Recentemente è stato messo a punto un test genetico per la tassia cerebellare, che provoca una progressiva diminuzione della coordinazione muscolare, manifestandosi per la prima volta tra i 3 e i 5 anni. Ora, identificando i cani con la mutazione, gli allevatori possono evitare che appaia nei loro pedigree. Come per tutte le razze, dovresti controllare regolarmente le orecchie e spazzolare spesso i denti del tuo cane. Prezzo e come acquistare correttamente. Il costo di un cane, a seconda della classe, è il seguente. La classe di razza con tessera veterinaria costa da 900 a 1200 dollari USA, mostra classe con pedigree e passaporto veterinario, da 1200 dollari USA, pet class. Gli Amstaff più economici, che costano da 300 a 600 dollari USA. Gli Amstaff dai capelli rossi aggiungono 300 dollari USA al costo, tigre, bianca e nera 100 dollari USA. Puoi ottenere un Amstaff economico al mercato degli animali domestici, ma è importante prestare attenzione a come appare il cucciolo. Il cane deve essere attivo, le zampe sono dritte e poste rigorosamente parallele tra loro, il morso è a forbice, il torace non presenta irregolarità. I cuccioli vanno volentieri ad incontrare persone e fare conoscenza con altri animali. In nessun caso dovresti prendere un cane adulto. È già abituato a una persona, ed è improbabile che riconosca il proprietario in te. Linea di fondo. L'Americanstaff orcire terriere è una razza di cane allevata negli Stati Uniti per compagni intelligenti, fiduciosi e bonari. Il loro coraggio è noto. Fine. Nella letteratura sull'allevamento di cani, a volte si trova il nome abbreviato della razza Amstaff. L' comprazzamissima. Grazie.